Siamo con Simone Grazzi, classe 2003, in selezione centrale, ma anche da l'esilonezza per correnza, è stato subito un impatto buono con la squadra, mi sono trovato subito ai miei amici, e ora sta andando tutto bene. Sì, anche in altre società ho anche giocato spesso a destra, come centrale, e mi sono alternato a tutti i due ruoli. Cosa cambia nel mondo del giocatore? Cambia la posizione, bisogna avere più forza e più velocità. Il direttore l'ha parlato, è un giocatore dalle grandi dati atletiche, quindi grande struttura fisica, sicuramente non è un problema che su questo fa la differenza. Sì, sì, la maggior parte a me è il fisico che mi porto avanti, tecnicamente bisogna sempre migliorare. Hai avuto modo di confrontarti con i ragazzi della prima squadra, di capire qualche segreto, un giorno spero. Spero, spero, sì. Ti sei posto con il vettore e giocare con la squadra? Sì, quello sarà anche uno dei miei obiettivi, sì. Per quanto riguarda il modo di giocare, le più caratteristiche tecnici, tecnici? A livello di fisico, Chiellini. Poi, vabbè, come da terzino a destra non saprei che comunque sono le prime armi con questo ruolo. Ti piace più giocare centralmente? No, entrambi, anche se da piccolino gioco centrale. Ah, quindi una vita diciamo da giocare centrale. Per chi per questa stagione? Vincere il campionato. Ti ha dato qualche consiglio, c'è il metro d'Ottobre, la vista della bandera, riguardo. Avere il quidato in settimana? Sì, ogni parte da una storia sì. Perfetto, un po' calmo per questa storia. Sì. Grazie. Grazie. Grazie.